Buongiorno a tutti signori, ben ritrovati qui su Pausa Caffè. Torniamo a parlare del sottomarino Titan. C'è un aggiornamento molto importante che riguarda proprio le registrazioni audio di tutto quel che si sono detti e che potrebbero far luce sulla questione per capire un attimo cosa è successo prima dell'implosione. Ebbene, gli investigatori del Transportation Safety Board Canada hanno visitato la Polar Prince, la nave principale praticamente del sottomarino Ocean Gate. Ma a cosa si sono detti quindi i passeggeri del Titan durante l'immersione? Si sono accorti dei problemi? Sapevano che stavano andando incontro a quel che poi è successo? Tutte queste e tante altre sono le domande che praticamente ci facciamo tutti quanti e che si sono fatti anche subito gli investigatori. Domande che potrebbero trovare una risposta nelle registrazioni vocali. Gli inquirenti stanno indagando su quanto accaduto. Ora le ricerche esamineranno le comunicazioni e altri dati sulla nave madre, la Polar Prince, per cercare di determinare cosa è successo. Gli investigatori del Transportation Safety Board of Canada hanno visitato la nave principale del sottomarino Ocean Gate. Hanno raccolto informazioni dal registratore dei dati di viaggio della nave e da altri sistemi. Si vuole scoprire cosa sia successo e perché. Anche, se non soprattutto, per ridurre la possibilità o il rischio di tali eventi in futuro, secondo il rapporto citato dalla CNN. Le registrazioni vocali potrebbero essere utili nella nostra indagine, ha indicato la presidente della TSB Katie Fox. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per determinare se quanto accaduto giustifichi un'indagine penale, ha dichiarato sabato il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police Kent Osmond. Tale indagine procederà solo se il nostro esame delle circostanze indica che le leggi penali, federali o provinciali potrebbero essere state violate, ha detto ai giornalisti Katie Fox. Il sommergibile Titan di Ocean Gate Expeditions trasportava cinque passeggeri il 18 giugno, quando è stato inghiottito nelle acque dell'Oceano Atlantico. I passeggeri a bordo avevano un'età compresa tra i 19 e i tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.